Oltre alla semina in casa che vi ho fatto vedere l'altro giorno, per essere sicuro di avere una chance in più che attecchiscano le fragole, faccio un altro tipo di semina, siamo all'aperto, oggi è una gran bella giornata, ho bagnato per bene il terreno, invece l'altro giorno ho fatto il contrario, non le metto a bagno perché è proprio una cosa fatta così al volo, milioni di semi incastrati, va bene, e le metto a spaglio, questo sempre col terreno buono, quello da semina, facciamo due vasi, ok, ovviamente poi verranno dire date, ricopriamo con un po' di terriccio asciutto, un velo, la prima innaffiata che ho fatto, ho fatto in modo che l'acqua scorresse poi dal fondo, quindi ho bagnato tutto il terreno per bene. ora questi non li metterò nel semenzaio riscaldato, ma li metterò nel nuovo semenzaio freddo, freddo per modo di dire perché poi lo riscalderemo durante la notte con un sistema artigianale, anche in questo caso non ho inventato nulla, lo avrete già visto su altri siti, su altri video, però apporto una modifica perché secondo me va un pochino meglio, ma dopo ve ne parlo, quindi questo lo metto all'esterno, qui nella serra, quindi avrò una serra dentro la serra, attendiamo i primi germogli e poi li confrontiamo con quelli che ho in casa. Sono passate circa sei settimane da quando ho seminato queste qui, voi non avete visto la prima fase di semina perché purtroppo il file è andato perso, diciamo che ho formattato la scheda SD della macchina fotografica e quindi è andata così, dicevo queste hanno sei settimane, si vede già la forma della fragola, vedete? Sono molto belle, adesso le farò crescere ancora un po', dopodiché dovrò poi trapiantarle in vasetti singoli. Queste invece sono quelle che avete visto all'inizio di questo video, sono passate circa tre settimane buone da quando ho seminato queste, sono ancora molto piccole, ecco, sapevo, arrivano gli aiutanti, vi dicevo queste sono ancora molto piccole, quindi dovremmo aspettare un po', con queste siamo in ritardo, queste invece ho fiducia di poterle mettere di mora tra tre settimane circa. Non avevo mai seminato le fragole, ho sempre comprato le piantine, è stata una bella esperienza, è stata molto semplice, vi riassumo brevemente come un fatto, qui ho messo i semi a bagno per qualche minuto in acqua e camomilla, acqua tiepida, dopodiché a spaglio ho semplicemente seminato. Il terreno è un buon terriccio e ho messo poi anche qui dello stallatico pellettato, ho bisogno di molte sostanze nutritive le fragole. Questo invece non ho messo a bagno i semi, li ho direttamente messi a spaglio, i vasi erano due, come poi vedrete tra un po', capirete che fine ha fatto il secondo vaso. Bene dai, è tutto, questo è stato un video molto semplice, volevo arrivare alle piantine un po' più grandi, però passa il tempo, quindi ho preferito farvi vedere i primi risultati, così se volete replicarlo siete in tempo, nel senso che se seminate adesso potete cominciare ad avere queste piantine fra un mese, un mese e mezzo. Queste hanno beneficiato anche del calore costante della serra riscaldata, quella che avete visto in altri video. Queste invece sono stati sempre soltanto messi dentro la serra fredda, quindi quella riscaldata con le candele dell'ultimo video, però avendole seminate più avanti, era all'inizio di marzo se non sbaglio, non ho avuto, a parte l'ultima settimana, non ho avuto grandi botte di freddo, ecco tutto lì. Bene, è stato un video veloce, vi ringrazio per essere stati con me, se avete altri sistemi di semina delle fragole ditemelo pure, mi fa piacere, se volete scrivere nei commenti le vostre esperienze vi ringrazio, se vi è piaciuto i video volete mettere un like, supportate il canale e ve ne sono grato. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Dan mi ha appena fatto cadere le fragole per terra. Porca miseria ragazzi, abbiamo buttato via un vaso di fragole, danni, non so se lo vedete, eccolo qua, danni ti voglio bene, però fai danni, si va bene, dai, si deve far riprendere anche lui, dai, non gli fai fare già mogli? Ehi, un vaso di fragole mi hai fatto fuori. Annaccia la miseria.